Assolutamente, dici bene Carmi, un saluto a te e tutti gli amici di Missione d'Ascolto in compagnia di Roberto Giammarino che ringraziamo e salutiamo. Big match sarà la seconda giornata di ritorno, sabato ore 14.30 a Matelica, vicecapolista in difficoltà. L'imperativo, lo ha detto anche Amaolo, al 91esimo del match del derby col Francavilla e cercare di svoltare o meglio di compiere il salto di qualità. Quale occasione migliore? Sì, è una partita che mette davanti due squadre importanti costruite per fare un campionato di vertice e sabato sarà un'opportunità per tutte e due le squadre. Il Matelica deve riprendersi da una situazione nelle ultime giornate difficile, anche perché noi nelle ultime due partite casalinghe abbiamo raccolto due punti, forse immeritati ma comunque sono due punti. Di contro però in trasferta il Pineto non perde dal 14 novembre, tu già sorridi, a parte i debiti scongiuri però la realtà è questa, a me piacciono i numeri. Il gesto scaramantico l'ho fatto già prima perché me l'avevi anticipato ma è vero però noi stiamo crescendo di giorno in giorno quindi la squadra sta maturando come diceva il mister per diventare una squadra importante. E' chiaro che queste sono partite che poi vengono risolte da un episodio e speriamo che gli episodi che ci sono stati sfortunati nelle precedenti due gare ci siano favorevoli a Matelica. Un campo per noi abbastanza difficile perché negli ultimi anni un pareggio e due sconfitte, la finale playoff l'anno scorso l'abbiamo affrontata con qualche mancanza in alcuni ruoli importanti, però andiamo per fare la nostra partita. Sappiamo di incontrare una squadra forte, organizzata e un bel gruppo quindi speriamo di fare una gara importante. Numeri alla mano, 32 gol fatti, il Pineto terzo migliore attacco, tra l'altro il Matelica vanta il migliore attacco del girone con 39 reti realizzate, 20 gol subiti, sesta migliore difesa, niente male. Sì, abbiamo una squadra quadrata in tutti i reparti, in attacco in considerazione che anche Tomassini è mancato per quasi due mesi, avere questa media gol non è male, qualcuno ci accusava di non avere gli attaccanti, invece credo che gli attaccanti che abbiamo sono bravi e purtroppo la perdita di Tomassini nella prima parte del campionato ci ha pesato moltissimo sotto l'aspetto realizzativo, in alcune partite c'è il davanti che ti può risolvere la partita e ti fa fare quel quid in più, però dai non ci lamentiamo. Pineto sta vivendo in questi anni delle situazioni importanti ed è giusto crescere e maturare piano piano, lo stiamo facendo con molta professionalità e discrezione e anche guardando al futuro con una progettazione, adesso io queste cose le ho già viste qualche anno fa e quindi stiamo raccogliendo un po' i frutti di una società seria come quella del presidente Brocco e del dottor Silvio Brocco e chiaro che poi delle buone idee ad un'ottima società portano dei risultati importanti. Non c'è dubbio, tre le assenze appunto per la partita di sabato, Marianeschi per l'infortunio, stessa cosa dicasi per Farias, Farias che dir si voglia, mancherà anche Cercelluti, causa squalifica, però insomma dal primo minuto rivedremo sicuramente Fratangelo che è entrato benissimo in corso d'opera nel derby col Francaviglia. Sì, ma ogni giocatore ha la sua caratteristica, è chiaro che la perdita di Marianeschi a centrocampo ci penalizza un pochettino, anche se Francesco sta facendo il suo dovere, esposito, parlo di esposito, è chiaro che Cercelluti è una perdita importante, è che Marco ha forza ed è uno che può rompere qualsiasi tipo di difesa, però abbiamo una rosa importante, i ragazzi che sostituiranno gli infortunati e gli squalificati saranno sicuramente all'altezza per fare una partita importante e con personalità. Non è il Matelica dello scorso anno, diciamolo con chiarezza, però è una squadra sicuramente di spessore, gente come Losicco, Pignat, Losicco soprattutto che ha sempre fatto la Serie C, lì davanti Melandri, Angelilli, insomma, chi più ne ha più ne mette. È una squadra fortissima come era fortissima l'anno scorso, questa ha qualche caratteristica diversa, però diciamo che è sempre una squadra quadrata, una squadra che comunque ha 40 punti, è una squadra che ha sempre cavalcato la parte di là della classifica, è una squadra che oggi può battere chiunque, quindi dobbiamo stare attenti e crescere, come abbiamo detto prima, e cercare di sfruttare gli episodi a nostro favore. Questo è un camionato dove con l'episodio risolvi la partita. Ti faccio l'ultima perché abbiamo visto da oggi, si sta allenando, si allenerà, perché l'allenamento non è ancora cominciato, Forese che è un ragazzo di Pineto, centrocampista classe 2000. Il ragazzo viene da un infortunio, era nella primavera del Pescara, poi ha avuto un'esperienza in Svizzera, a Lugano se non sbaglio, rientra da un infortunio al nervosciatico, adesso si sta riprendendo, a noi farebbe molto piacere se viene a Pineto e sta con noi, perché è un ragazzo di Pineto, quindi chi più di noi lo può apprezzare, il ragazzo pare ci voglia venire, quindi adesso è solamente, oggi si allenerà per la prima volta, ma penso che poi sarà a disposizione nel prossimo futuro e se è bravo questa è una buona vetrina per le sue caratteristiche. Noi ringraziamo Roberto Gianmarino che è stato davvero molto gentile e disponibile, ricordo soltanto Carmine che il Matelica viene da un periodo molto negativo sul piano dei risultati, una sola vittoria nelle ultime sei partite, tra l'altro in casa, nelle ultime due altrettante sconfitte, sconfitte con lo stesso risultato, 3-2 contro la Re Canatese e il Campobasso. Ringrazio Diego Martelli per la parte tecnica e tutto, la linea può tornare a te.